Ayahuasca e le Iene mi avete chiesto che cosa penso del servizio che hanno fatto e Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video prima di tuffarci in questo argomento interessante lasciami un segno del tuo passaggio, lascia un like, un commento, iscriviti al canale, fa qualcosa, diffondiamo luce, benessere, serenità, pace, armonia perché anche a questo serve internet, questo strumento straordinario, per me è una gioia condividere ciò che apprendo girando in giro per il mondo dall'India al Sud America all'Europa all'Africa eccetera in questo caso parliamo di un argomento della foresta amazzonica, l'ayahuasca e cosa penso del servizio penso che sia un servizio straordinario, hanno fatto un servizio dove hanno dichiarato che l'ayahuasca è legale e visto che molte persone credono alla televisione, che bello che anche la televisione abbia dato questo messaggio quindi di legalità della ayahuasca togliendo molti dubbi, molte incertezze, molte perplessità le persone che sentono il desiderio di avvicinarsi a questa pianta magistrale solo che a volte avevano qualche quiz, qualche indovinello quindi adesso l'ha detto anche la televisione c'è una nota che in realtà secondo me l'avrebbero dovuto mettere in un modo diverso perché hanno intitolato il servizio droga o magia quando in realtà le droghe in Italia sono illegali e quindi c'è un po' questa discrepanza da un lato del video dicono che l'ayahuasca è legale però poi nel titolo c'è scritto che è una droga però la droga è illegale quindi insomma c'è questa piccola discrepanza tuttavia sono convinto che le persone che sono andate a partecipare a questo servizio lo abbiano fatto con un intento buono di aiutare sempre più persone e credo che nel loro intento di portare un po' di luce su certe cerimonie dove si sono preoccupati di fare in modo che gli organizzatori organizzassero al meglio la cerimonia e che dessero le giuste informazioni quindi giusto, bello questo intento, straordinario perché è bene fare le cose fatte bene quindi grande che avete fatto questo servizio dall'altro lato penso che le persone che hanno partecipato alla cerimonia quindi i giornalisti che hanno partecipato a questa cerimonia non abbiano avuto l'opportunità di sperimentare per loro stessi che cosa sia veramente l'ayahuasca perché ovviamente erano lì molto con la mente un po' da detective in missione segreta e quindi non si dovevano far sgamare dagli altri organizzatori cioè mi immagino un po' la scena andiamoci ne prendiamo eccetera e quindi se sei in una situazione di questo tipo non puoi farti l'esperienza per te stesso come fai a vivere l'esperienza se sei lì a fare il detective e quindi probabilmente non so se hanno avuto modo di partecipare a una cerimonia di ayahuasca e quindi di farla per loro stessi quindi di spegnere la telecamera cioè quando fai una cerimonia di ayahuasca non vai lì con la telecamera eccetera lo vai per avere una connessione con te stesso per sanarti da un punto di vista fisico per sanarti da un punto di vista mentale, emozionale e per avere una connessione con Dio con l'anima, con la spiritualità e quindi se entri in una cerimonia di ayahuasca con gli occhi del mondo duale e tutto ti sembra molto strano è normale questa cosa quindi certi commenti che sono stati fatti durante il servizio sono comprensibili e sono tipici di una persona che immaginati la scena tu parli cinese entri in una stanza dove parlano tutti inglesi e dici ma cosa stanno dicendo questi? cioè ridono ma perché ridono? perché piango? e beh non capisci perché sei in un'altra frequenza quindi nulla di male in tutto questo e comunque grande grande servizio perché ha portato un po' di luce su fare le cose fatte nel modo corretto e quindi che bello che bello che bello che bello che sempre più persone parlino di questa pianta mi auguro che possa essere diffusa sempre di più in Italia perché ormai è stata sdoganata dal Sud America dall'Amazzonia e quindi anche internet ha aiutato sempre più persone a entrare in contatto con questa persona ci sono persone illustri non degli stupidi personaggi di un certo calibro che hanno messo la faccia dietro questa pianta perché? perché non puoi stare zitto una volta che conosci c'è un detto cinese orientale che dice che quando entri a contatto con qualcosa che migliora la vita delle persone tu hai l'obbligo morale di diffonderla agli altre persone perché? perché non ci sono gli altri siamo tutti uno e quindi se tu stai bene anche io sto bene e quindi è un dovere è un dovere diffondere sempre di più è un dovere civile diffondere ciò che ritieni utile per altre persone per me è stata ed è un'esperienza straordinaria a tutte le volte di sanazione fisica mentale spirituale emotiva di connessione profonda di comprensione di molte dinamiche e quindi è un'esperienza che suggerisco a tutte le persone di incontrare almeno una volta almeno una volta fatevi questo regalo grande almeno una volta qual è il regalo grande? incontrarti incontrare te stesso incontrare Dio dentro di te e quindi io ti auguro di avere questa grande opportunità di avere questo regalo meraviglioso con questo è tutto mi auguro di aver risposto alla domanda che mi avete posto noi ci vediamo al prossimo video lasciami un segno del tuo passaggio lascia un like un commento condividi questo video e nelle note qui sotto ti riporto una pagina dove puoi approfondire ulteriormente la questione dell'ayahuasca con questo è tutto noi ci vediamo prossimamente ciao